Di quanto stiamo parlando in termini economici di ristrutturazione? Di 1 milione e 500 mila euro. A tanto ammonta il sogno nel cassetto del sindaco di Follina, che non contento di aver trasferito il municipio ristrutturando uno storico collegio annesso alla locale Casa di Riposo, punta a recuperare l'intera corte, chiudendo il cerchio, nel vero senso della parola, con l'intervento in questa parte del complesso. Ci manca ancora l'ultima parte che era stata addivita a chiesa e appartamenti per le suore negli anni in cui il complesso del San Giuseppe era diventato un collegio e adesso rientra nei nostri piani riuscire a ristrutturare. Il progetto c'è già e descrive ancora uffici comunali, ma anche un auditorium ed infine una cucina che fornisca pastri sia per una messa interna, per le scuole comunali che per la vicina Casa di Riposo. Un'architettura innovativa, quella pensata per questo sogno nel cassetto, che non finisce qui. Fra i due edifici che vediamo c'è una parte scoperta a terrazza, vorremmo fare così una copertura magari in acciaio e vetro per poter fare magari dei rinfreschi e godersi la vista sull'abbazia. Un sogno nel cassetto, ma non troppo, visto che i finanziamenti sono già stati individuati, perché anche se Folina è città slow, il sindaco ha comunque fretta di far partire i cantieri. Rientra nella richiesta che abbiamo fatto attraverso la città slow per usufruire del recovery fund.